Ad un anno esatto dalla sua introduzione, la composizione negoziata della crisi è ancora un procedimento da scoprire per tante aziende sarde. Così la Camera di Commercio di Sassari ha dedicato all'argomento l'incontro codice della crisi e della composizione negoziata, i nuovi strumenti a disposizione dell'impresa, che si è svolto oggi a Sassari nella sede dell'ente camerale in via Roma, con numerosi relatori di livello nazionale, alcuni collegati in videoconferenza. L'organizzazione delle Camere di Commercio in Sardegna è al servizio delle imprese anche in questa occasione. C'è una normativa nuova, è una normativa difficile, complessa, che oggi stiamo esaminando in un seminario dove esperti regionali e nazionali si stanno confrontando. Il confronto ci dice che anche questa è un'occasione per l'impresa quando emergono difficoltà. Nel momento in cui emergono c'è una piattaforma per verificare se è possibile recuperare. La composizione negoziata consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati, esperto che viene individuato proprio dalla Camera di Commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Grazie. 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 Grazie.